Ieri sera abbiamo, buongiorno a tutti prima di tutto, ieri sera abbiamo sentito quella bellissima conferenza del dottor Gasperi che si è conclusa con questa risposta a una domanda sull'aspetto sociale, sulle tre parole d'ordine della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza e fraternità. Abbiamo avuto anche il sentimento che queste parole, questi ideali venivano anche da una cultura esoterica precedente alla rivoluzione francese, quindi al movimento dei Templari. E in effetti quello che vorrei aggiungere è che proprio attraverso la pedagogia steneriana noi vorremmo in un certo senso preparare l'interiorità umana per un futuro in cui queste tre parole possano in un certo senso trovare espressione. È un compito difficile, è un compito particolare e richiede anche una certa formazione, una certa maturità. Abbiamo in un certo senso questa visione dei tre settenni di cui Rodostani parla sempre, lo sviluppo dell'essere umano nei settenni, voi sapete già di che cosa si tratta, quindi il primo settenno riguarda il bambino piccolo che va dagli zero anni ai sette, il secondo dai sette ai quattordici e il terzo dai quattordici e ventuno. In questi tre settenni l'essere umano è soggetto all'educazione, ma in modi differenti. E quindi possiamo in un certo senso collocare lo sviluppo della libertà nel primo settenno, in quanto il bambino che è discente dal mondo spirituale è ancora, come posso dire, alleggiante intorno alla propria corporeità, come abbiamo sentito non è ancora arrivato a compenetrarla totalmente, e coglie dall'ambiente quegli impulsi necessari per formare prima di tutto la propria corporeità. In questa elaborazione che l'essere del bambino fa attraverso l'esperienza del suo ambiente, in modo particolare degli educatori che ha intorno, si sviluppa l'imitazione, cioè questa elaborazione viene realizzata attraverso questa imitazione, questo essere del bambino nell'ambiente, negli altri. Ma possiamo dire che imita liberamente, quindi si costruisce attraverso questa libertà dell'imitazione. Sembra un controsenso, ma va proprio in questa direzione. Nessuno può costringere il bambino a fare quello che vogliamo noi fino a una certa età, è vero? Questo lo sperimentiamo tutti, lo abbiamo sperimentato tutti. Nel secondo settegno, invece, abbiamo il compito di far sviluppare nell'essere umano quelle qualità che porteranno a un sentimento dell'uguaglianza sociale nella vita giuridico-politica. Mentre nel terzo settegno svilupperemo, se il compito sarà svolto in maniera, come posso dire, artistica, sarà raggiunto, oppure sarà, diciamo, raggiunta la disposizione a sperimentare l'elemento della fratellanza nella vita economica. Quindi, come vedete, ci sono questi tre elementi che vengono sviluppati nei tre settegni. La figura dell'educatore, un tempo, era quella della, come posso dire, dell'iniziato, no? Abbiamo parlato dei templari, di una certa corrente esoterica. Quindi, arte, scienza e religione facevano parte di un unico elemento conoscitivo e questi tre elementi erano portati dal maestro, da colui che educava il popolo, dall'iniziato. E noi, insegnanti, siamo, come posso dire, preposti a un compito così alto di cui forse non abbiamo nemmeno totalmente coscienza, vero? Allora, qual è, diciamo, la formazione che ci viene richiesta come educatori? Dobbiamo, in verità, essere contemporaneamente, oppure vestirci contemporaneamente con tre abiti, avere tre immagini, tre figure che si sviluppano in noi. Da una parte dobbiamo essere dei sacerdoti e questo è particolarmente la figura dell'insegnante del primo settegno. E poi ci viene richiesto di essere degli artisti e questa è prevalentemente la figura del secondo settegno. Nel terzo settegno, invece, dovremmo portare la conoscenza, dovremmo essere, avere una cultura generale del mondo, una cultura scientifica, in modo da portare i contenuti del mondo ai nostri allievi. Quindi la formazione dell'insegnante dovrebbe, in un certo senso, partire da una conoscenza dell'uomo, da una conoscenza dell'uomo nella sua manifestazione generale di corporità fisica, mondo animico, ma anche mondo spirituale, e nello stesso tempo, e questo ci darà naturalmente un sentimento di venerazione anche per il compito che dobbiamo seguire per avvicinarci a questa entità, questa individualità che si sta incarnando, che è scesa dal mondo spirituale e che ci è stata affidata. D'altro canto, siamo anche invitati a esercitare delle arti. Addirittura Ludo Stagner dice, la formazione degli insegnanti non dovrebbe mancare dell'esercitazione nell'arte plastica, plastico-figurativa, e nell'arte musicale, musicale-linguistica. Questo compito lo vedrebbe necessario anche per la formazione dei medici e mette molto vicine le due professioni, da una parte l'educazione, il ducatore, dall'altro l'elemento medico della medicina e della cura. Entrambe queste professioni hanno a che fare con la cura dell'essere umano, in un certo senso con la guarigione dell'essere umano, perché, come dicevano i greci, l'uomo incarnandosi scende, discende in una sub-umanità, cioè cade a una caduta e noi, attraverso l'educazione e anche la medicina, dobbiamo risollevarlo, riportarlo al suo elemento originario, cioè l'elemento prettamente umano e spirituale. Quindi, anche gli insegnanti dovrebbero avere queste qualità artistiche e, naturalmente, anche una certa conoscenza delle leggi della natura. Queste qualità artistiche ci permettono di sviluppare delle conoscenze che altrimenti non potremmo sviluppare per la conoscenza dell'essere umano. Certamente con, diciamo, l'usuale conoscenza attraverso la percezione e l'elemento intellettuale, noi possiamo conoscere il mondo esterno, il mondo della natura, ma ciò che configura l'essere umano e che lavora interiormente all'interno dell'essere umano non possiamo coglierlo attraverso una semplice osservazione esteriore e il riflesso del mondo, diciamo, del pensiero, del pensiero razionale. E quindi dobbiamo, in un certo senso, esercitarci nel modellare, nel creare una sensibilità interiore per il mondo delle forme. Cos'è questo mondo delle forme? E' il mondo, diciamo, delle forze viventi, delle forze eteriche, lui le chiama così delle forze formatrici, che organizzano il nostro corpo fisico. Quindi soltanto creando una certa intimità, una certa unione attraverso la pratica, attraverso il lavoro delle forze formatrici, noi possiamo cogliere le leggi che stanno alle spalle di queste forze formatrici. Quindi possiamo riconoscere anche nei nostri bambini che cosa significa quella forma della testa, oppure quella forma delle mani, riconoscere le leggi, le forze che hanno operato in lui, che lui porta dalla vita prenatale o la forma della sua testa. No, sono le stesse forze che stanno organizzando nel primo settenno il suo organismo e che lui porta dal mondo prenatale. D'altro canto dobbiamo, in un certo senso, elaborare l'elemento musicale e linguistico, quindi esercitarci nella musica. Non tutti abbiamo le qualità musicali, linguistiche, oppure le qualità plastico-architettoniche, è vero? Però dobbiamo sempre cimentarci con entrambe queste correnti per poter sviluppare quella sensibilità interiore che ci porta a cogliere l'elemento dell'anima. Cioè le forze musicali sono delle forze che hanno a che fare con la vita anteriore, con la nostra vita più intima, la vita dell'anima. Quindi attraverso questo elemento musicale noi possiamo cogliere che cosa vive nell'interiorità dei nostri allievi, dei nostri bambini, ma anche delle persone che ci sono vicine, che ci vengono incontro. Mentre ci viene detto attraverso l'esercizio dell'arte della parola, quindi di questa facoltà che è prettamente umana, e noi riusciamo, diciamo, a cogliere, a creare una sensibilità per quelle forze che sono assolutamente individuali e che si manifestano come forze dell'io. Se vogliamo cogliere questa forza che si manifesta, dobbiamo veramente lavorare con le forze della parola. Questo per poter cogliere, conoscere, per poter sviluppare una conoscenza, una sensibilità conoscitiva che nessun manuale, nessun libro ci può dare, soltanto attraverso l'esercizio artistico. creiamo questa sensibilità. E con questo esercizio artistico noi diamo il proprio incontro a quello che il bambino ci richiede durante la sua formazione. Quando lavoriamo con il bambino del primo settennio, dove possono vivere queste forze artistiche? Non c'è nessun insegnamento artistico nel primo settennio, ma noi possiamo assistere, osservare queste forze artistiche, plastico-architettoniche che lavorano nella configurazione del suo organismo, che formano la sua corporità partendo proprio dalla testa. Queste forze plastico-architettoniche sono le forze che danno forma partendo dalla testa a tutta l'organizzazione corporea. E queste forze devono essere curate nel modo giusto affinché il bambino possa svilupparsi nel primo settennio in modo sano, in modo che possa dare forma alla propria corporità in maniera più sana possibile. perché su questo, diciamo, su questo lavoro, su questo strumento si edificheranno poi tutti gli altri aspetti della vita interiore. Quindi quando siamo di fronte al bambino piccolo possiamo educare soltanto attraverso ciò che noi stessi facciamo di fronte a lui, no? E quindi le nostre azioni devono essere anche legate all'elemento estetico, all'elemento della bellezza, specialmente ciò che vive nell'ambiente del bambino. Deve essere curato, deve essere armonico, in modo che le forme che egli accoglie attraverso l'esperienza sensoriale producano interiormente degli organi sani, perché su questo poi crescerà un essere animico e spirituale più sano possibile. e naturalmente i nostri gesti, i nostri movimenti devono essere pieni di bellezza, di estetica, ma anche di verità. Cioè le nostre azioni devono avere un senso, devono essere pieni di verità e di senso, perché il bambino attraverso questa imitazione, questo cogliere l'elemento della bellezza del gesto, ma anche della verità del gesto, lui forma la propria corporeità. E alla fine del primo settennio, noi vediamo che qualche cosa si trasforma nel bambino. Quindi vediamo che queste forze plastiche architettoniche, che sono forze che lavorano sull'organismo, quindi sono forze che creano biologicamente, che creano organi, che creano forme organiche, si emancipano dall'organismo ed emerge quello che abbiamo visto ieri sera, nella statuaria egizia, emerge la testa, da quel cubo che abbiamo visto. Si liberano queste forze, che sono le forze, diciamo, del pensiero e della memoria, ma dobbiamo anche sapere che sono le stesse forze, quindi sono, come posso dire, una forma di intelligenza che crea, che lavora fin nell'organico, che lavora fin nell'organico creando strutture, ecco che una parte di queste forze si liberano da questa loro attività per manifestarsi come forze psichiche e quindi anche come forze di pensiero e di memoria, ma anche forze creative, artistiche, estetiche, che desiderano essere impiegate nell'elemento del modellaggio, del disegno. È vero, sono le stesse forze che sono in collegamento con l'attività di pensiero. E possiamo anche osservare che queste forze continuano a fluire anche nella restante parte del secondo settegno e sono forze che continuano a costruire altre parti del nostro corpo, è vero? Ma dall'altra parte possiamo contare su questa capacità del bambino che ha sviluppato nell'ambito del pensiero e della memoria. Certamente se accostiamo al bambino un'educazione prettamente intellestualistica come avviene oggi, noi in un certo senso lo portiamo a mortificare queste forze di pensiero che nel bambino sono ancora immaginative, sono ancora artistiche, sono ancora piene di movimento e egli vorrebbe conoscere tutto il mondo attraverso queste forze e non le forze intellettuali che sono già astratte e che mortificano questo pensiero e naturalmente anche tutta la vita interiore. Quindi se noi utilizziamo pensiero astratto prima del suo sviluppo naturale, noi agiamo fin nelle forme fisiche, indurendo e, come posso dire, mineralizzando tutto l'organismo. Ma manchiamo anche di una formazione interiore che è assolutamente indispensabile per l'uomo moderno. Quindi lavorare con le immagini significa andare incontro a quello che il bambino porta con sé dal prenatale, vero, e che pian piano costruisce la propria, attraverso queste forze, costruisce la propria corporità. Sono forze che vengono dal prenatale e che quando noi le usiamo artisticamente esprimono queste forze creative, perché sono forze creative, sono forze di fantasia, sono forze dell'immaginazione e se noi veramente potessimo avere la coscienza della forza dell'immagine che crea, che crea fin nell'organismo, allora possiamo anche avere la consapevolezza della qualità e della necessità di preservare queste immagini e di portarle a un ulteriore sviluppo. Quindi la forza dell'immagine che ha la capacità di creare, di creare fin nell'organismo, abbiamo detto. Sono forze che ci vengono dal prenatale e come insegnanti dovremmo in un certo senso sviluppare una certa venerazione per ciò che il bambino ci porta incontro come forze plastiche pittoriche. Venerazione perché sono le forze che lui ci porta individualmente dal passato, dal prenatale. Ed è anche per questo motivo che Rudossane ci dice, attraverso le forze plastico-pittoriche noi portiamo all'individualizzazione del bambino. Cioè continuiamo a sviluppare artisticamente le stesse forze che hanno costruito, che costruiscono il suo organismo secondo un impulso che gli viene dal passato, un impulso individuale. Mentre quando lavoriamo con l'elemento musicale e linguistico, lavoriamo con un impulso che ci viene dal futuro. Quindi abbiamo due direzioni del tempo, una che viene dal passato e che costruisce forma e dall'altra parte una forza, un elemento spirituale che si manifesta nell'elemento musicale e linguistico che ci viene dal futuro e che, diciamo, si incontra nel secondo settennio con le forze che vengono dal passato. E quindi dobbiamo assolutamente elaborare entrambe le qualità artistiche estetiche, ma dobbiamo anche sapere quali sono le caratteristiche di queste due forze e di come agiscono differentemente sullo sviluppo del bambino. Da una parte abbiamo queste forze plastiche architettoniche che rimangono immaginative e che producono una qualità di pensiero ancora viva, ancora creativa e che possiamo anche considerare come una terapia, cioè una forza che salva il pensiero che muore, che diventa sempre più astratto. Lo manteniamo vivo. E dall'altra, con l'elemento musicale e linguistico, elaboriamo tutto quello che invece è nell'elemento volitivo, subconscio, nell'elemento della volontà, dell'istinto. Quindi da una parte le forze di pensiero che rimangono vive, creative e dall'altra parte le forze musicali e linguistiche che invece hanno a che fare con l'elemento volitivo, con l'elemento della volontà e che a tutta prima è legata ancora all'istinto. Allora, quando esercitiamo la musica, che cosa facciamo in sostanza? Il canto e la musica. E ci viene anche consigliato di cominciare immediatamente, sin dalla prima elementare, con tutte queste attività artistiche. lavoriamo sulle forze dell'anima che sono legate, diciamo, all'istinto. Queste forme istintuali che rappresentiamo spesso, abbiamo rappresentato spesso in tutte le culture attraverso le forme animali. Le qualità interiori che non abbiamo trasformato ci appaiono sempre come degli impedimenti, è vero, che assumono forme animali. Questo lo ricordiamo anche nella Divina Commedia che Dante Alighieri si sperimenta queste tre belve che non sono altro che le forme dell'anima che non sono state ancora elaborate e che gli impediscono di proseguire verso il sentiero del sole. Quindi tutti gli artisti hanno sempre manifestato attraverso le forme degli animali qualche cosa della natura dell'uomo, della natura più bassa dell'uomo. Quindi che compito ha la musica? E il Dostani ci dice la musica ha il compito di nobilitare, di trasformare il nostro corpo dei sentimenti, il nostro corpo istintuale. Quindi dovremmo gioire, avere entusiasmo per le forze musicali, linguistiche, per ciò che ci viene dal futuro, perché hanno la forza di trasformare l'entità più bassa dell'uomo, quella animalesca, quella istintuale, e quindi vediamo il, come posso dire, il serpente nel nostro bambino, la volpe, il lupo. Poi oggi parleremo delle fiabe, ci sono molte fiabe in cui ci sono gli animali che hanno anche un altro compito, ne vedremo sotto un altro punto di vista. ma queste forme animali che cominciano a manifestarsi nel bambino dopo che ha passato il settimo anno, che ha passato questa, diciamo, tappa evolutiva, si manifestano perché in questo secondo settennio il bambino incomincia a sviluppare la propria interiorità, la propria anima, no? Nel primo settennio ha sviluppato la sua corporità e da questa si libera questo elemento psichico e pian piano incomincia a diventarne anche consapevole. Specialmente intorno al nonimo decimo anno c'è questo risveglio, diciamo, verso la propria interiorità. e anche questa meraviglia che il bambino prova, ma anche una certa paura e timore di fronte alla realtà di se stesso, ma anche alla realtà del mondo che gli si pone davanti in maniera totalmente differente, come se un velo cadesse dai suoi occhi e tutte le esperienze cominciano a trasformarsi. Ma in questo momento, in questo secondo settennio, l'elemento musicale ha proprio il compito di trasformare quella parte dell'interiorità che è ancora legata a una volontà istintuale per nobilitarla, trasformarla, renderla umana. E tutti questi miti anche che riguardano, diciamo, la vittoria sull'animale, ma anche la vittoria della musica sull'animale, Orfeo ammazzisce l'animale con la sua musica, in fondo la musica trasforma la nostra interiorità. Tanto che anche Shakespeare è arrivato a dire che chi non porta, colui che non porta la musica in sé è capace di assassino, tradimento e perfidia. tutte qualità che riguardano la nostra, diciamo, qualità più inferiore. E quindi, attraverso la musica noi trasformiamo queste qualità, le eleviamo e le nobilitiamo. E in un certo senso dovremmo essere felici quando vediamo che nel bambino, attraverso l'elemento musicale, il serpente regredisce, il lupo si nasconde oppure viene vinto, no? Quindi è una trasformazione che poi porterà il bambino intorno al quattordicesimo anno ad avere elaborato tutta un'interiorità e che sarà anche ricca di contenuti e di elementi che avrà trasformato, reso più umani e allora possiamo avere questa figura del centauro, no? Questo elemento del sentire, quindi del petto, del cuore e del pulmone che si eleva da questa forma animale che comunque rimane presente fin quando? Fino al ventesimo anno, quando anche l'elemento volitivo si emancipa dalle forze organiche, dalle forze del corpo. Quindi vediamo come queste forze dell'anima si emancipano dall'organismo in questi tre momenti diversi e naturalmente l'elemento artistico ha un aspetto determinante per la capacità poi che l'uomo avrà di affrontare gli elementi della vita e in modo particolare anche l'elemento sociale. Che Rodolfani dice l'uomo che avrà la musica in sé, che avrà la pittura in sé, che avrà confidenza con le forme e le comprenderà, ecco che si porrà vicino un altro essere umano in una maniera socialmente differente. Quindi questo elemento avrà a che fare anche con la vita sociale futura dell'essere che diventerà adulto. Ma che cosa dice anche Rudolf Steiner? Che tutto questo elemento diciamo artistico dice se in tal modo viene anche giustamente sviluppato quel che è necessario in maniera del tutto particolare dell'elemento artistico diventa contemporaneamente un insegnamento morale. Quindi si vede che in questo secondo settegno l'etica e l'estetica appartengono a una diciamo sono ancora unite appartengono a una stessa realtà. quindi anche questo sviluppo del gusto o del disgusto questa esperienza della bellezza si trasforma anche in gusto interiore per il bene e disgusto estetico se vogliamo dirlo così per il male. Quindi bellezza e bontà e verità in un certo senso coincidono nell'esperienza estetica. Sì possiamo osservare che abbiamo due correnti artistiche anche nel corso della vita spirituale umana da una parte l'arte plastico pittorica che noi afferriamo con l'esperienza diciamo sensoriale della vista noi vediamo esperienze artistiche e lì rimangono nel tempo e nello spazio no? Possiamo in un certo senso ammirarli continuamente perché rimangono lì come qualche cosa di creato e indistrutto ma nell'elemento musicale linguistico vediamo che abbiamo a che fare con tutta un'altra capacità che è quella di creare a nuovo ogni volta l'elemento musicale o la danza o la recitazione e una volta eseguita una volta realizzata tutto questo svanisce rimane solo nella nostra interiorità e ogni volta bisogna ricrearla nuovo e qui abbiamo a che fare con l'esperienza del tempo se una rimane nello spazio l'altra a che fare con l'elemento del tempo e quindi ci riporta queste due grandi divinità greche da una parte Apollo che in un certo senso è il Dio che deve essere interpretato il Dio che è esterno il Dio solare che agisce anche musicalmente ma attraverso le forze plastico-pittoriche e è Dioniso invece il Dio della musica che è in noi il Dio che parla direttamente l'interiorità umana e attraverso l'elemento musicale abbiamo un'esperienza diretta dell'elemento animico della gioia del dolore di cose terribili oppure tragiche oppure graziose la musica parla direttamente la vita della nostra anima non abbiamo bisogno di un interpreto o di un'interpretazione di qualcuno che ci dica che cosa dobbiamo sentire vero? questa agisce immediatamente in noi quindi abbiamo queste due correnti e effettivamente questo elemento Dionisiaco che ha il compito di in un certo senso di elaborare direttamente la nostra anima la nostra interiorità è anche l'elemento che porta a una internazione a una presenza maggiore rispetto alla consapevolezza di sé attraverso la musica noi incarniamo se vogliamo usare questa parola maggiormente l'essere del bambino e quindi possiamo usare anche queste due branchie dell'arte da una parte l'elemento appollineo che porta che porta verso il mondo spirituale che porta verso l'esterno che fa salire l'anima e in un certo senso disincarna quindi dobbiamo anche sapere che cosa stiamo facendo con il bambino quando facciamo pittura modellaggio disegno portiamo facciamo realizziamo realizziamo un certo respiro nell'anima del bambino quindi portiamo a una certa escarnazione e dall'altro quando facciamo musica o sviluppiamo un elemento linguistico abbiamo questa maggiore presenza nella nostra corporità quindi incarniamo maggiormente non è un caso che la musica è sempre stata usata anche per accompagnare gli uomini in guerra vero? oppure questo elemento ritmico per afferrare meglio l'individualità e portarli verso diciamo lo scontro la lotta quindi la musica ha sempre accompagnato un tempo almeno anticamente i soldati i guerrieri verso la lotta con gli altri uomini con gli altri eserciti portava faceva scendere e rendeva l'uomo più agguerrito certamente se se esercitiamo troppo la musica abbiamo anche un certo stordimento quindi dobbiamo sapere che mentre per l'elemento plastico architettonico non c'è limite possiamo esercitarlo continuamente dall'altra parte l'elemento musicale e linguistico deve essere come posso dire smorzato deve essere ben dosato perché potrebbe invece eccitare eccessivamente è vero i nostri bambini tanto che effettivamente anche c'era questo compito anche della danza e della musica di far sentire di far penetrare Dioniso in noi e attraverso il ritmo attraverso il ritmo della danza attraverso il ritmo della musica si entrava in una diciamo anche movimento che ci portava fuori dalla coscienza e si cadeva in uno stato di estasi e si coglieva la divinità che è in noi è un po' quello che cercano anche i nostri ragazzi oggi è vero questo il fatto di muoversi costantemente muovere anche la testa per con piacere naturalmente per accogliere la musica in tutto il proprio essere però cercano anche questa forma di escarnazione di afferrare il mondo spirituale sopra un altro piano inconsapevolmente quindi da una parte abbiamo l'aspetto musicale linguistico che elabora la nostra vita interiore che ci incarna dall'altra l'aspetto plastico architettonico che invece ci libera diciamo dall'essere troppo nella nostra corporità e queste due attività che dovrebbero accompagnare naturalmente tutte le attività della didattica hanno anche il compito di correggere di far respirare in maniera differente un bambino che magari è troppo dentro la propria corporità è troppo incarnato è troppo materia e in questo caso possiamo anche osservare che si potrebbe anche manifestare una forma di delinquenza una forma di non sanno sviluppo interiore diciamo così troppo nella materia d'altra parte invece abbiamo dei bambini escarnati che non hanno ancora preso ben possesso della propria corporità e vivono in un atteggiamento diciamo sognante e da adulti magari siamo incapaci di affrontare la realtà della vita con la giusta forza e quindi Ludostani parla di queste qualità dell'essere umano che rimangono diciamo sollevate dall'esperienza terrestre e parla di mistici sognatori che non entrano nella realtà del mondo terrestre come si dovrebbe e magari sono incapaci di affrontare la vita quindi abbiamo questi due elementi artistici estetici che ci permettono di trasformare di aiutare il bambino o la bambina a trovare un giusto respiro tra se stessi tra la propria anima e la propria corporità quindi da una parte con l'elemento plastico pittorico porto a liberare un po' a distaccare un po' l'anima dal corpo la rendo più sognante e dall'altro invece incarno maggiormente attraverso il musicale linguistico e l'elemento musicale linguistico ha un compito anche tutto speciale per la nostra vita futura quindi ciò che qui accogliamo come musica che vibra dentro di noi attraverso questa esperienza musicale ecco che questa continua a essere come posso dire vissuta inconsapevolmente durante la notte e continua a trasformare il nostro essere ma poi ci viene detto che dopo la morte l'elemento musicale porta in un certo senso ci allieva la ci allevia scusate l'esperienza che facciamo l'esperienza animica che facciamo dopo la morte ma anche abbiamo come posso dire la responsabilità che attraverso l'entrare nel mondo spirituale attraverso la nostra morte che attraverso l'esperienza musicale che facciamo nella vita noi portiamo nel mondo spirituale la musica che abbiamo ascoltato creato esercitato durante la vita e con essa vengono costruiti nuovi mondi perché l'elemento musicale l'elemento musicale il suono ha la capacità di creare nuovi mondi ha la forza della creazione della parola del suono della parola cosmica quindi questa forza noi la dobbiamo in un certo senso sentire dobbiamo avere un rispetto religioso anche per l'elemento musicale che esercitiamo con i bambini e quindi in un certo senso accogliere queste forze che ci vengono dal futuro ma che poi nel futuro creeranno nuovi mondi ma creeranno anche nuove corporità quando arriviamo in una sesta classe per esempio e cominciamo a sviluppare con i bambini la fisica facciamo un esperimento forse lo conoscete tutti l'esperimento legato diciamo a queste forme di cladni quindi si prende un piatto di metallo con un supporto si mette della sabbia si sfrega il piatto con un archetto di violino insomma di uno strumento musicale e il piatto comincia vibrare allora cosa succede si vede proprio che attraverso questo movimento del suono della vibrazione le particelle di materia che sono sul piatto si spostano e si configurano formano delle forme acute con delle linee rette se il suono è acuto e formano delle forme curve se il suono è grave e ci sono decine e decine di queste forme che sono state diciamo ricavate da questi esperimenti quindi si vede come l'elemento musicale agisca fin nella sostanza fin nella materia addirittura fin addirittura fin nelle cellule del nostro sangue allora diciamo che c'è una certa responsabilità nel condurre il bambino in questo secondo settenno affinché questa anima si sviluppi nel modo corretto che abbia un giusto respiro che possa inserirsi correttamente nel proprio organismo fisico che non entri troppo fortemente ne rimanga troppo esterno ma anche una certa diciamo responsabilità per diciamo l'elemento artistico di cui ci compenetriamo perché diventerà formatore di nuovi mondi in fondo Ludo Stani dice tutto quello che abbiamo intorno a noi non è altro che un suono cristallizzato tutto è suono tutto è musica che si è cristallizzata e la musica che noi esercitiamo è come un ricordo della musica delle sfere dentro le quali eravamo prima nel mondo spirituale che poi percepiremo nuovamente questa musica delle sfere che sentiamo che percepiamo nel mondo spirituale e attraverso la quale il mondo è stato creato allora la domanda è questa oggi è più necessario lavorare attraverso queste forze rispetto al passato oppure no perché oggi viviamo in un mondo tecnologico è vero dove diciamo l'elemento formatore di suoni di movimenti anche di percezioni diciamo visive ha un certo carattere è vero siamo circondati dal mondo delle macchine il nostro paesaggio moderno non è più quello estetico artistico del rinascimento l'uomo del rinascimento si muoveva per la città e vedeva la bellezza ovunque è vero e questa bellezza questa visione andava a formare l'essere umano per il futuro non abbiamo più questo noi abbiamo in un certo senso imprigionato Afrodite la bella Afrodite che ci ha diciamo condotti fino alla percezione sensoria nella bellezza del mondo vero l'abbiamo relegata imprigionata dove l'abbiamo messa nascosta se vogliamo vedere la bellezza oggi dobbiamo andare in un museo è vero oppure dobbiamo andare in una sala di concerti un tempo 50 60 anni fa tutti sapevano suonare uno strumento specialmente nelle campagne perché non c'erano queste riproduzioni musicali quindi c'erano le persone che sapevano suonare il banjo la chitarra qualcuno sapeva suonare la fisarmonica e in questi momenti c'era grande socialità perché la musica crea un elemento sociale è vero grande socialità e c'era come posso dire un'esperienza diretta dell'elemento musicale non certo la perfezione musicale che sentiamo noi oggi con i cd ma era una musica che parlava la nostra anima anche nella sua imperfezione e ci configurava adesso non c'è più la musica ovunque come era un tempo e quindi siamo costretti a cercare dei luoghi dove vivere questa esperienza estetica artistica ma noi dobbiamo riportare anche i ragazzi e i giovani a portare l'elemento artistico e musicale classico pittorico musicale e linguistico nella realtà della vita nei nostri ambienti i nostri ambienti devono essere belli perché perché la forma la struttura di un di un luogo agisce profondamente sulla nostra struttura animica ci configura pensate che insomma nell'architettura vero l'architettura è uno spazio creato da una certa diciamo forma con una certa armonia e questa agisce fin dentro la nostra struttura ora entrare in forme disarmoniche per un bambino significa non avere la possibilità di lavorare interiormente di elaborare interiormente qualcosa di armonico ma di disarmonico e tutto quello che è disarmonico noi lo sperimentiamo nella vita moderna attraverso la macchina che continua con questi rumori sfregamenti suoni sgradevoli dissonanti è vero e se concepiamo l'elemento sonoro come un elemento formatore vuol dire che tutte queste nuove generazioni sono formate da queste da questo ambiente non solo poco estetico ma addirittura antiestetico antiarmonico e qual è l'antidoto di Celudo Steiner per questo per far fronte a questa vita che noi abbiamo intorno a noi ma che fa parte del karma della nostra epoca è vero abbiamo anche scelto di venire in questo momento e di sperimentare anche questa difficoltà ma proprio attraverso l'educazione plastica architettonica e musicale linguistica in questo secondo settennio noi armiamo se vogliamo dire così l'anima del fanciullo lo rafforziamo per far fronte a questa disarmonia invece che sperimenta nel mondo e ci invita anche a osservare come l'uomo di oggi abbia bisogno di maggiori forze rispetto all'uomo del passato proprio per sostenere per far fronte alla vita moderna della vita di oggi non ritirarsi in un luogo isolato lontano da tutti per evitare tutto questo magari in una bella casetta con tutti i colori antroposofici steneriani è vero e quindi siamo contenti ma rafforzarci e rafforzare l'anima umana per far fronte a questa nuova diciamo situazione che l'uomo deve affrontare e deve superare quindi perché deve rafforzarsi perché in verità nella natura viene qualcosa di molto particolare noi distruggiamo la natura distruggiamo cave minerali boschi insomma deprediamo la natura distruggendola e formiamo cose nuove come le macchine siamo circondati per qualsiasi lavoro umano abbiamo una macchina a disposizione che ci aiuta naturalmente non dobbiamo disprezzare questa creazione dello spirito umano però dobbiamo realizzare delle forze maggiori per sostenerle perché distruggendo la natura e qui i biodinamici hanno un compito speciale distruggendo la natura per ricostruire queste forze distruggendo la natura noi diciamo espegliamo gli esseri elementari che la tengono unita che sono forze della natura che sono delle forze positive che aiutano anche la natura a come posso dire mantenersi vitale li liberiamo e costruiamo queste macchine con questi elementi della natura ma si creano dei nuovi spiriti è vero che entrano in queste macchine sono una nuova spiritualità a cui noi dobbiamo come posso dire tener testa far fronte essere forti per sostenerle quindi anche con l'arte facciamo così noi distruggiamo della materia per far che cosa? per ricomporla per ridare una nuova forma magari per rilevarla per trasformarla per illuminarla e qui vediamo che c'è un'altra qualità spirituale che si inserisce nella forma artistica nella nuova creazione che noi riportiamo incontro alla natura quindi da una parte una distruzione con l'inserimento di esseri non favorevoli diciamo così e dall'altra la capacità artistica che riporta invece una creazione solleva la materia verso lo spirito una creazione umana che la solleva verso lo spirito e che porta la creazione di una nuova vita anche se diciamo immaginativa anche se non reale non organica ma una vita spirituale che si manifesta portandoci forze e sviluppo interiore si vorrei concludere perché non c'è ancora tanto spazio però volevo anche mostrarvi come in questo secondo settegno quando l'anima diciamo viene sviluppata e si trasforma e in un certo senso viene pian piano con la maturità terrestre cioè con la pubertà viene liberata attraverso tutto il lavoro che facciamo in questo secondo settegno come educatori il bambino si risveglia con la pubertà alla propria individualità perché fino a questo momento siamo esseri in un certo senso generalmente umani si risveglia la propria interiorità e incomincia ad agire il karma dell'individuo ma anche l'elemento intellettuale e la capacità di giudizio autonomo quindi questo è il momento in cui il giovane si risveglia si risveglia al mondo si risveglia all'elemento sociale si risveglia alla conoscenza intellettuale astratta ma dobbiamo avere diciamo alle spalle un settegno ricco e pieno di forza dell'anima affinché questo risveglio non trovi in questo risveglio l'essere umano non trovi la propria anima vuota se questo se non abbiamo dato elementi diciamo adatti allo sviluppo dell'essere umano in questo secondo settegno l'uomo non potrà trovare nella vita successiva una propria forza una propria gioia una propria spiritualità un elemento spirituale nel mondo quindi gli mancherà qualche cosa sarà come posso dire un uomo non completamente voluto ma con questa ricchezza interiore il giovane allora potrà in un certo senso sviluppare l'elemento ideale il pensiero autonomo il pensiero intellettuale nella giusta misura sarà un pensiero ricco sarà un pensiero che coglie le cose del mondo nel senso di percepire le forme e cogliene le forze che ci stanno dietro nel percepire l'interiorità dell'altro nel percepire attraverso la parola l'io dell'altro è vero perché gli abbiamo lo abbiamo diciamo esercitato cosa che dovremmo fare anche noi educatori a una conoscenza che non è solo quella intellettuale ma una conoscenza che che è legata all'immaginazione all'ispirazione all'intuizione è vero gli impulsi per queste facoltà dell'anima e quindi gli abbiamo dato degli strumenti strumenti che Rudolf Stanley chiama con questi termini sono attività che porteranno l'essere umano a sperimentare gioia per la vita amore per l'esistenza forza per il lavoro altrimenti troverà la vita vuota e sarà infelice perché ricercherà sempre qualcosa che non ha potuto avere no? quindi sì possiamo dire un'ultima cosa perché parliamo dell'arte e del sentimento dell'arte allora in questo secondo settennio naturalmente l'arte non si conclude con il secondo settennio ovvero l'educazione artistica continua anche nel settennio successivo e dovrebbe essere presente in tutta la vita dell'adulto però mi soffermo semplicemente in questo elemento educativo allora nei primi anni fino a che il bambino non arriva al nono anno cioè dal settimo anno al decimo anno noi esercitiamo questa volontà del fare noi facciamo l'arte l'esercitiamo insegniamo a cantare insegniamo uno strumento partendo però da un elemento archetipico insegniamo il disegno di forme la pittura ma non ha ancora un carattere di come posso dire espressione artistica anteriore ma portiamo i bambini a cogliere gli elementi archetipici che stanno dietro a queste attività artistiche cioè per il disegno di forme la linea retta e la linea curva vero? tutto il mondo è stato creato attraverso la linea retta e la linea curva dice Keplero e vediamo che effettivamente anche la nostra corporità ha queste linee rette nell'elemento degli arti e questa forma curva tutta chiusa in se stessa senza movimento se non interno e spirituale della nostra testa quindi creiamo questa sensibilità per le forme e questo è un compito non solo del disegno di forme ma anche del modellaggio naturalmente e poi creiamo una sensibilità per l'elemento del colore non è che vogliamo far fare dei bambini delle opere artistiche non è quello di far diventare loro degli artisti in futuro o semplicemente dei dilettanti dell'arte no no vogliamo dare far fare al bambino l'esperienza interiore magari dell'armonia dei colori quindi quale colore sta bene vicino a un giallo il blu o il verde no oppure specialmente per i bambini che magari non sviluppano tanto la memoria lavorare sull'accostamento di verde e rosso giallo e viola o arancio blu no questi colori complementari che ricreano questa armonia quindi nei primi anni di scuola c'è tutto questo lavoro semplicemente sul sentire il colore sull'armonia del colore sull'accoppiamento del colore e così anche nella musica sentire che due note sono in accordo tra di loro o tre addirittura sono in accordo tra di loro oppure sentire che queste altre non sono in accordo tra di loro quindi sentire creare un sentimento diciamo proprio per queste qualità per queste forze e soltanto con questo nono decimo anno quando l'anima si risveglia ecco che il bambino risvegliandosi a se stesso sente anche musicalmente fa delle esperienze differenti quindi se prima fino al nono anno abbiamo lavorato sulla musica pentatonica come è già stato detto è una musica che in un certo senso ci fa sentire che non abbiamo ancora messo i piedi per terra ecco che adesso incominciamo con la musica diatonica ma incominciamo anche a far sentire queste variazioni dell'animo umano tra l'elemento del maggiore e del minore no? tristezza o allegria e tutto questo lavoro è collegato anche all'elemento della narrazione creare sempre questo respiro dell'anima gioia e dolore espansione e contrazione questo è un compito nostro di educare questo movimento di questa capacità interiore quindi questa musica che diventa anche esperienza della propria anima e così anche per la pittura e le altre arti cioè diventa con il nono decimo anno una parola molto interessante servitore servitore dell'arte comprende l'arte cioè la fa sua non è solo un fare ma adesso anche un comprendere e poi ci viene detto quando arriva il dodicesimo anno quando le forze intellettuali più astratte si fanno avanti incominciano a manifestarsi perché nell'organismo ci sono delle trasformazioni ecco che noi dobbiamo creare un contrappeso dice proprio là nel momento in cui noi cominciamo a fare fisica chimica incominciare a studiare la storia con le leggi di causa-effetto ovvero tutto questo elemento intellettuale dobbiamo creare un contrappeso e questo contrappeso è dato non solo dall'esercizio dell'arte l'esercizio artistico ma anche della comprensione intellettuale dell'arte cioè afferrare l'arte con le forze di pensiero cogliere le differenze forme artistiche come abbiamo come il dottor Gasperi ci ha mostrato ieri sera in maniera così bellissima cogliere le diverse forme artistiche secondo lo sviluppo della civiltà umana quindi accompagnare anche la storia con la storia dell'arte per cogliere queste metavorfosi nell'esperienza artistica e dice che questo è fondamentale la comprensione dell'arte è qualche cosa che deve assolutamente accompagnare il giovane per affrontare la vita successiva l'elemento diciamo di sviluppo successivo quindi esercitare l'arte comprendere l'arte col cuore per la diventare nostra e nell'ultima parte di questo secondo settegno comprendere l'arte come forze che hanno educato l'umanità insieme alle forze storiche diciamo così e naturalmente tutto questo arriverà poi con la maturità terrestre a manifestarsi come forza dell'ideale come ricerca dell'elemento spirituale nel mondo nella realizzazione del proprio compito in un ideale ecco mi fermerò qui se ci sono delle domande perché sono già 11 e 10 prego per l'esistenza amore per l'esistenza e forza per il lavoro quindi questo sviluppo non c'è mai no ma mi interessava capire che genere di musica come avvicinare il bambino alla musica che genere di musica le filastrofe quello per conto non c'è stato il tempo di parlare anche dell'elemento della parola per esempio le filastroche sono parole però legate al ritmo che piacciono tanto ai bambini perché loro non colgono il senso della parola bambini piccoli ma colgono l'elemento musicale e su quello anche cominciano a muoversi allora questo tema della musica non l'ho affrontata in maniera approfondita perché ci sarà Marco Schneider che ha questo tema del ritmo della melodia armonia sì in un certo senso la mineralizzazione del corpo va di pari passo con lo sviluppo dell'elemento diciamo intellettuale di pensiero astratto quindi questo primo elemento di pensiero astratto si manifesta come una forza che si libera in un certo senso dall'organismo proprio intorno al dodicesimo anno c'è un primo germe di questo pensiero astratto cosa possiamo dire però insieme a tanti studiosi non so c'è Gardner Goleman Greenspan sono studiosi americani che dicono che assolutamente sono diciamo in consonanza con quello che abbiamo detto ora che il pensiero astratto il senso di sé la moralità e diciamo l'intelligenza astratta si sviluppa da tutta la vita emozionale quindi la vita artistica la vita dell'anima questi sono i frutti di uno sviluppo della vita emozionale chiudo la parentesi quindi con il dodicesimo anno c'è questo indurimento dell'organismo perché cosa avviene avviene un cambiamento molto importante in tutto l'essere del bambino perché ci sono trasformazioni a livello cerebrale che adesso non descrivo magari il medico lo sa meglio di me trasformazioni a livello cerebrale molte cose che cambiano addirittura sappiamo che per esempio alcune parti del cervello che le neuroscienze indicano come diciamo preposte all'esperienza cosciente del mondo dei sentimenti maturano con la pubertà quindi coincide diciamo con quello che noi vediamo come sviluppo invece del cuore polmone come elemento della parte mediana che emerge come centauron quindi aumenta diciamo così si sviluppa questa parte anche centrale quindi l'anima possiamo dire l'esperienza dell'anima del giovane e dello giovane si approfondisce l'anima si ampia i sentimenti diciamo trovano sempre maggior spazio e diventano anche sempre più personali perché il cuore e il polmone dai 10 11 anni 12 secondo se maschio e femmina incominciano a svilupparsi e ampliarsi fino ad aumentare del 40 al 50 per cento c'è un lavoro organico fortissimo a quell'età d'altro canto vediamo che c'è un allungamento anche degli arti degli arti una crescita che magari non avviene più nel resto della vita con tale intensità quindi i giovani anche dal punto di vista psichico è molto impegnato in questo lavoro ma la cosa importante è che lo scheletro si indurisce quindi tutto lo sviluppo del bambino va anche nella direzione dell'indurimento dello scheletro quindi quando lei usa il terreno un alimento si riferisce all'apparto scheletro si ma anche c'è una mineralizzazione e questo continua fino alla fine della nostra vita naturalmente però diciamo che ecco diventa si consolida come con lo scheletro dell'adulto e quindi che cosa appare appare questa capacità di pensiero intellettuale causale ma è semplicemente un seme che poi si sviluppa profondamente nel terzo settennio ora se noi usiamo un intelletto quindi una capacità astratta prima del tempo prima di tutto questo sviluppo noi cosa facciamo agiamo attraverso un elemento animico fino al corpo indurendolo prima del tempo mineralizzando ma anche possiamo anche dire nel momento in cui faccio solo pensare il bambino solo in maniera astratta io continuo a produrre anche diciamo a livello cerebrale delle sostanze degli elementi minerali che induriscono l'organismo e che magari non vengono eliminati nel modo giusto è giusto produrlo ma anche è giusto scioglierli quindi se non c'è un contrappeso se non c'è un'attività diciamo di pensiero ma anche un'attività volitiva che è fuoco calore sangue che scioglie quello che abbiamo necessariamente indurito portiamo anche degli effetti degli aspetti di malattia la malattia il dostan dice che la malattia spesso nasce da una sbagliata educazione nella prima infanzia perché quello che facciamo 9 10 11 anni si rispecchia è un seme che si rispecchia 40 45 50 quindi se siamo abbiamo l'artrite oppure abbiamo malattie digestive può essere bisogna un po' andare a visitare l'educazione iniziale e vedere che cosa qual è stato il seme che è stato introdotto perché il rudo stagne ci invita proprio a riflettere che l'essere umano è un essere in formazione e quando noi lavoriamo con lui educandolo inseriamo semi che si svilupperanno successivamente in fondo educhiamo per la vita questo è un fatto e allora ci vuole questa grande consapevolezza responsabilità capacità artistica dell'insegnante di cogliere come un bambino cambia il suo modo di camminare per esempio o addirittura cambia la sua espressione del viso o addirittura cambia il modo di muovere le mani dopo che ho esercitato musica con lui devo avere questa sensibilità per cogliere gli effetti della mia azione educatrice naturalmente quando si parla di educazione si dovrebbe dire arte dell'educazione perché tutte le materie non solo le attività artistiche devono essere portate attraverso l'immaginazione attraverso l'elemento diciamo della vita interiore del sentimento far muovere i sentimenti è come un muovere musicale vero? noi siamo uno strumento musicale c'è un ritmo anche nel nostro corpo un respiro ogni quattro battiti cardiaci ma ogni respiro noi influenziamo il liquido che dal midollo lo spinale va la testa che è il liquido cefalo rochidiano influenziamo tutta la nostra attività di pensiero e quindi agiamo interiormente ma anche fisicamente infatti i bambini devono respirare bene e quindi anche tutta l'attività didattica viene esercitata secondo un ritmo ben preciso ma una cosa straordinaria che dice Steiner perché la musica è legata alla matematica è vero? cioè la musica ha costruito il nostro corpo conforme anche attraverso le forze plastiche poi si trasforma in capacità estetiche perché facciamo musica? perché sentiamo che quel suono non è corretto? è un matematico che è nel nostro orecchio ovvero lo sentiamo è un sapientino che è in noi ma come posso dire quando esercitiamo musicalmente sappiamo che agiamo anche per una conoscenza matematica astratta no? perché anche nella musica parliamo di un quarto due quarti tre quarti eccetera eccetera anche gli esperimenti col monocordo sono legati a queste proporzioni ben precise è vero? e che cos'è una divisione? è un ritmico rimpicciolimento oppure una radice oppure una moltiplicazione è vero? abbiamo sempre a che fare con qualche cosa di ritmo ma la cosa interessante che dice Ludo Stani è che proprio attraverso questo legame tra la musica e la matematica cosa è riconosciuta anche dal ministero della pubblica istruzione fare musica aiuta alla comprensione diciamo matematica quindi proprio questo passaggio dall'elemento artistico musicale all'astrazione della matematica è come posso dire ci chiarisce che tutto quello che ci ha costruito che sono forze artistiche spirituali plastiche architettoniche musicali linguistiche si emancipano dall'organismo e si manifestano come forze estetiche artistiche di bellezza per il nostro corpo è bellezza è vero? l'abbiamo anche visto dall'immagine di ieri sera ma diventa poi attraverso un'ulteriore emancipazione pensiero astratto quindi la matematica diventa pensiero astratto ma siamo costruiti con le forze musicali della matematica quando studiamo botanica vediamo che ci sono i fiori e sei petali i fiori e cinque petali i fiori e quattro petali che le foglie si mettono intorno al gambo con un certo ritmo è vero? quindi però la cosa straordinaria dice facendo matematica noi portiamo armonia ordine e risaniamo l'essere umano attraverso la matematica e la religione grazie 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 Grazie.